ciao tesoro come stai? come stai? come stai? va bene se ti coccolo un po' mentre dormi tu chiudi pure gli occhi se preferisci ok? farò degli suoni che ti aiuteranno a mantenere un rilassamento profondo a dormire bene ok? ti meriti di dormire bene 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 ok? perfetto inizierei da questa maschera che ti aiuterà a dormire ma non te la farò indossare ti farò soltanto sentire il suo suono ok? 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 ok ok ascolò aga nascolò ti sai? si grazie 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 per la visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.